Continuiamo anche noi a cercare, come abbiamo detto nella puntata di ieri, a cercare per incontrare Cristo seguendo la stella attraverso le provocazioni di Paolo VI che ci stanno accomagnando. E nel 1976, proprio all'Angelus, nel giorno della Epifania, Paolo VI fa due brevi considerazioni, due brevi pensieri sulla Epifania che celebreremo domani nella solennità della nostra liturgia cattolica e cristiana. Sentiamo il primo pensiero rinviando poi l'altro pensiero a domani. Un pensiero che vuole portare significato, un pensiero che vuole portare luce su questa epifania come manifestazione di Dio alle genti, come manifestazione di Dio agli uomini e alle donne di ogni tempo. Ma ascoltiamo Paolo VI. Anche oggi festa maggiore, festa della manifestazione di Cristo, l'Epifania. Qui il mistero diventa problema. Eh, che bella intuizione. La manifestazione di Cristo diventa un problema. E lo è stato sempre. Perché la manifestazione di Cristo, piuttosto che unire, ha diviso il mondo. Tra coloro che credono, coloro che non credono, coloro che credono in un modo, coloro che non credono in un altro modo. Ma anche tra coloro che lo hanno ignorato. Ma diventa un problema per noi credenti, un problema salutare, un problema positivo che ci aiuta a vivere meglio la nostra fede, il mistero dell'incarnazione nel tempo della nostra vita e della nostra esistenza. E perché l'Epifania diventa un problema, un mistero che diventa un problema? Lo spiega sempre Paolo VI. Dice, qui il mistero diventa problema. Cioè, noi siamo invitati a riflettere sulle modalità che rendono a noi percepibile la presenza dell'uomo Dio nel mondo. Diventa problema perché la manifestazione di Dio, per noi credenti, vuol dire impegno a cercarlo, a trovarlo, perché Lui è presente nella nostra vita e in questo nostro mondo. L'incarnazione, continua Paolo VI, fonte della nostra salvezza, diventa motivo della nostra responsabilità. Dobbiamo cercarla, dobbiamo accoglierla, questa venuta di Dio sulla terra. Vedete come il discorso continua ed è un tutt'uno collegato al mistero della notte di Betlemme. La storia dei magi che cercano e trovano Cristo si fa modello dell'itinerario fortunato che giunge alla stazione terminale. L'umiltà è insieme lo splendore della rivelazione e si fa accusa per chi non cerca e per chi non sa volere e non sa trovare. E questo aspetto potrebbe riguardare anche noi, figli del regno, che spesso restiamo passivi, se non pure indifferenti e ostili alla luce a noi tanto vicina e copiosa, mentre da lontano, gente onesta e pensosa, sa individuare presso di noi la sorgente luminosa della fede salvatrice. E questo è un pensiero grave. Cioè, mentre c'è gente lontana da noi che sa riconoscere quel bambino come il Messia, noi spesso cristiani non lo sappiamo riconoscere, pur sapendo che lui è il Messia, perché lo sappiamo perché ci è stato detto, lo sappiamo perché ce l'hanno insegnato, perché apparteniamo a questa religione. Dobbiamo passare dalla religione alla fede, che la fede è l'incontro vivo. La fede ci consente di vivere il Natale dell'anima, di vivere questa manifestazione del Signore ogni giorno nella nostra esistenza. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Grazie a tutti.